ci avviciniamo per far vedere che cosa stiamo ci stiamo chiedendo anzi così non si vede una posti challenge ok se non ci fate qualche domanda non abbiamo capito un cazzo quindi maschi tutti e due il mio animale di velocità e di favorezza il suo animale la scena che famosa è un ufficio postale e guida la macchina il mio è un animale del bosco? no è un animale della fattoria? no vola? no è un cane o un gatto? no è un cane o un gatto? no è dell'africa? no in fattoria? no vola? no nuota? no adesso questo c'è la 4 cavalli del cane un gatto fa così c'è un cane che non è grigio? no non è grigio è grigio? si come il giallo? no è un animale socievole? no no è un blu? no Sono di un colore particolare o di un colore neutro. Rosso? No. Mi cazzicolo. Sono animali vivaci oppure no? No, decisamente no. Sono rango! No. A me questo cartone piace. Si. Tanto. Te è piaciuto. Tu sei sicura che me lo ricordo? Si. 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 Teletubbies. Maschio. Guida la macchina. Non sono un animale socievole. E sono di un colore neutro. Si. Sì. Che cazzo. Io che cazzo sono? Un bandito. Un bandito. vi do la macchia quello che fa papo ha 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 beh è stato bello finito il video il video faceva cagare però è bello ci vediamo al prossimo video taz e non si scrive taz quanto è difficile non si scrive taz 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 ciao ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao